bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e anche oggi ragazzi tutte le news delle ultime 24 ore di fortnite le trovate racchiuse in questi pochi minuti il video di oggi ragazzi è davvero molto particolare perché ad un certo punto vi dirò se volete andare avanti oppure no dato che ci sono delle informazioni sull'evento della season 4 che ci porterà alla season 5 parleremo anche di tutto quello che sta per accadere ovviamente che non riguarda l'evento della nuova copertura dei leaks e di tanto tanto altro prima però volevo ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno mi supportano nello shop con il mio codice creator xyuderone grazie mille ragazzi per il vostro sostegno mi raccomando non dimenticate di iscrivervi ai miei canali e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica con i miei video news e allora andiamo direttamente a parlare del primo argomento di oggi lo state già vedendo così senza neanche mettere lo slide season 5 just got certified by nintendo switch what means it's ready to release vuol dire ragazzi che è ufficialmente pronta tutta la stagione 5 quindi la patch 15.00 è un qualcosa di mastodontico ragazzi perché avremmo una un update incredibile non sappiamo bene che cosa succederà io qualche idea ce l'ho ma non voglio dirvi il mio punto di vista perché so quello che succederà più o meno nell'evento ma avremo davvero delle belle da vedere quindi non perdete non sappiamo ancora la data ufficiale dell'evento ma dovrebbe tra poco arrivare il classico timer di cui siamo abituati a vedere quindi attenzione perché questi giorni sono davvero super importanti e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché vi voglio ricordare che ci sarà la fase del dream hack dream hack tournaments will happen next season with 250 mila dollari del prize pool in europa che è quello che ci interessa a noi il 19 dicembre ci sono le qualifiche il 20 dicembre le semifinali e le finali poi in tutto il resto del mondo come vedete i giorni sono differenti l'unica cosa che sappiamo ragazzi è che si gioca in duo quindi ancora non sono pronte le qualifiche ci saranno il 19 il top 250 vanno direttamente allo stage 2 dal quale vengono selezionati solamente i top 50 credo che tutti quelli che avanzano nella fase finale quindi nello stage 3 del dream hack abbiano comunque già garantito una piccola parte del monte premi fino ovviamente ad arrivare a chi vincerà che si porterà a casa la fetta più grande ma andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché voglio ricordarvi che finalmente è disponibile anche la possibilità di ottenere la copertura di house party quindi voglio farvi vedere molto rapidamente il tutorial che arriva in realtà anche da parte di fortnite come vedete basta semplicemente scaricare l'applicazione dal play store di house party come vedete step 1 download connettere il vostro account di fortnite e poi giocare semplicemente con i vostri amici in realtà basta semplicemente collegare l'account per poter ottenere dal negozio la copertura come vedete fog rainbow quindi arcobaleno la possiamo vedere anche in questa immagine appunto in game davvero molto carina animata e soprattutto gratuita quindi direi che un pensierino possiamo farcelo ma andiamo avanti nel prossimo argomento di oggi perché voglio ricordarvi che proprio oggi ci sarà l'ultima grande modifica in game dell'autobus della battaglia del battle bus tomorrow in realtà sarebbe oggi l'autobus riceverà il terzo power up voglio farvi vedere ancora uno spezzone video perché ce l'abbiamo ed è davvero molto interessante vedere come diventerà l'autobus quindi ci sono proprio delle ali come vedete alla parte destra e alla parte sinistra che lo fanno upgradeare in poche parole la vera domanda è perché è stato fatto probabilmente da tony stark visto che i colori sono quelli di iron man l'upgrade all'autobus della battaglia dove deve portarci questo autobus in un'altra galassia oppure cercherà di salvarci perché succederà qualcosa nella mappa non lo sappiamo ma questa è l'ultima fase che ci porta ovviamente poi all'evento e consecutivamente alla season 5 staremo ovviamente a vedere allora ragazzi io direi che tutti quelli che vogliono andare avanti a vedere vogliono sapere alcune cose niente di esagerato ovviamente possono continuare chi non vuole invece sapere proprio nulla della season 5 dell'evento può fermarsi qua io comunque vado avanti proprio adesso e come vedete ragazzi abbiamo delle modifiche some chains to the sky were added for the galactus event in 14.60 quindi cambierà in qualche modo il cielo per l'evento del galactus ci sono nei file di gioco direttamente delle varie stringhe che faranno cambiare il cielo probabilmente con delle colorazioni particolari diciamo che indicativamente questa è un'immagine che può farci capire quello che dovremmo aspettarci il cielo sarà veramente di una colorazione pazzesca la costellazione sarà visibile benissimo e quella nuvola viola centrale potrebbe davvero essere l'arrivo del divoratore di mondi ma andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché volevo anche anticiparvi che sono stati aggiornati nei file di gioco il file audio dedicati all'evento o meglio al buco nero quindi probabilmente potrebbe accadere qualcosa per quanto riguarda un possibile ritorno di un buco nero questo vorrebbe dire probabilmente per il mio parere che magari non riusciremo a contrastare il galactus e sarà proprio per questo che l'autobus della battaglia ha ricevuto tre upgrade perché probabilmente ci porterà tutti da un'altra parte su un'altra mappa sulla vecchia mappa non lo sappiamo ragazzi però credo che l'aggiornamento dei file del buco nero stia a significare che qualcosa di incredibile sta per arrivare e andiamo a chiudere il video di oggi ragazzi ricordandovi che presto in cielo apparirà ovviamente il timer non abbiamo idea quando ma oramai ci siamo dovrebbe mancare veramente uno o due giorni forse tre o quattro in realtà perché sabato e domenica la vedo un po' difficile però potrebbe abbiamo già avuto nelle season precedenti un timer in arrivo nel weekend timer appunto in cielo ragazzi che ci darà l'indicazione esatta l'ora esatta dell'inizio dell'evento che molto probabilmente stravorgerà di nuovo la nostra concezione di fortnite insomma ragazzi io anche per oggi tutte le news ve le ho dette vi ringrazio tanto per avere guardato questo video mi raccomando non vi dimenticate di lasciare un bel like lasciatelo ragazzi per far andare questo video nei consigliati e soprattutto ci vediamo alle 8 in live su twitch ciao